Tre senzio d'alcali stanno per diventare super ricchi. Ci sono tre senzio d'alcali che grazie a un transito molto favorevole di pianeti stanno per arricchirsi, stanno per fare tanti soldi, stanno per diventare super ricchi e questi senzio d'alcali sono il senzio d'alcali del cancro che grazie veramente al pianeta Marte ma soprattutto al pianeta Giove e alla posizione favorevole di questi pianeti è molto favorito nelle vincite, vincite, vincite. E poi stiamo parlando del senzio d'alcali dello scorpione. Per gli amici dello scorpione ci saranno enormi possibilità di guadagni, enormi possibilità di riuscire a ottenere tanti, tanti, tanti soldi. E per finire il senzio d'alcali della Vergine, anche per gli amici della Vergine, una nuova apertura al mondo del denaro si avvicinerà a loro. Metti un like, con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti!